Eder. Mech. Pallister. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nella sera di ieri 30 settembre a Biella in un cassonetto, avvolto in un telo di plastica. Si tratterebbe di un italiano di circa 30 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, residente nel biellese. Il corpo è stato ritrovato su segnalazione di una residente che abita in un condominio nei pressi del cassonetto e che stava gettando la spazzatura. Al momento non si conoscono le cause della morte perché gli investigatori stanno attendendo l'esito della prima ispezione del medico legale. Non sarebbero emerse a prima vista ferite. Sono in corso accertamenti della squadra mobile. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Eder Mech. Eder Mech. Eder Mech.